Ciao, sono Francesca e sono la titolare della bioprofumeria Timiama che si trova in via Sant'Omaso 90 vicino all'Accademia Carrara. Ho aperto questo tipo di attività nel 2013, quindi sono ormai quattro anni che sono aperta. Faccio uso di prodotti naturali per la cura del corpo, per il make-up e anche per la pulizia della casa, cosa che per me è importantissima perché non solo utilizzando questo tipo di prodotti si ha un'attenzione particolare per se stessi, quindi per la cura del proprio corpo, ma anche per l'ambiente. All'interno del mio punto vendita si possono trovare quindi tutta una serie di marchi con un particolare occhio di riguardo per i prodotti italiani che non contengono tutta una serie di ingredienti dannosi sia per noi che appunto per la natura.